È un bilancio tragico quello degli incidenti stradali sulle strade bergamasche nei primi sei mesi dell'anno. Sono state ben 47 le vittime, 19 motociclisti, 16 automobilisti, 6 ciclisti, 5 pedoni ed un autotrasportatore. Ben 13 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Oggi l'Eco di Bergamo dedica due pagine a queste catombe, con dati, commenti e analisi. Si sottolinea anche che è la prima volta dal 2007 in Bergamasca che il numero delle vittime della strada è tornato a crescere. L'aumento delle vittime tocca in modo particolare due categorie di utenti della strada. I giovani tra i 18 e i 30 anni, che costituiscono il 29% delle vittime dei primi sei mesi, e i motociclisti, che arrivano al 40%, ben 10 punti in più rispetto alla media 2000-2010.